Alla scadenza del progetto triennale 2007-2009 di lotta alle zanzare su territorio piemontese che ha registrato risultati molto positivi, si è firmata a Vercelli la proroga per il 2010 del piano di azione con la sottoscrizione di un accordo di programma tra Regione Piemonte e le province di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Vercelli e Verbano, Cusio, Ossola. La campagna è stata avviata nel 2007 con il coordinamento operativo dell'IPLA, l'Istituto per le piante da legno e l'ambiente. È stata promossa e finanziata dalla Regione Piemonte con uno stanziamento annuo di 7 milioni di euro, 21 milioni nei tre anni e il contributo delle province interessate è per complessivi 500 mila euro annui. È stato veramente un bel programma, noi con tutte le province, con oltre 200 comuni coinvolti, con più di 420 aziende agricole che hanno aderito attraverso pratiche sia culturali, soprattutto queste, cioè lavorare le sponde, inserire prodotti nel momento della semina e poi nel momento del diserbo, pratiche urbane, interventi nelle città, attenzione particolare alla zanzara tigre, insomma una lotta integrata, uso dell'aereo anche ma speriamo sempre più in riduzione, credo che abbia prodotto veramente risultati positivi. Abbiamo attuato una metodologia di intervento correlata con l'uso integrato delle pratiche agronomiche, degli interventi di bonifica agrochimica, l'uso degli elicotteri è stato ridotto al minimo, il risultato invece ha raggiunto il massimo e abbiamo ottenuto un abbattimento del 90% della infestazione. Grazie